Sicuramente sarà un consiglio comunale nuovo, sarò un consigliere di maggioranza perché Giampiero Zinzi vincerà le elezioni. Questo è l'auspicio di tutta Caserta che non si vede più nel progetto di Carlo Marino. La dedica a tutta la città ma alla mia famiglia che mi ha supportato e sopportato in questi lunghi mesi di campagna elettorale. Cosa ha di più secondo lei Giampiero Zinzi che può comunicare a coloro che ci stanno seguendo? Giampiero ha una visione nuova della città, guarda in prospettiva e non guarda soltanto al presente. Ha delle idee molto chiare per migliorare la nostra città e renderla più vivibile per tutti i cittadini. Per il momento andiamo a vincere, poi i posizionamenti si verranno in un secondo momento. La cosa più importante è votare Giampiero Zinzi a farlo diventare sindaco di Caserta e a dare alla città una nuova identità. Onorevole Zinzi, ultimi fuochi di questa campagna elettorale, secondo turno, ballottaggio. Lei però è un veggente tornando qui al comitato di Maurizio del Rosso perché quando ci fu la cerimonia di presentazione del candidato lei disse me lo ritroverò certamente in consiglio comunale. Detto fatto? Sì, io avevo anche previsto che avremmo condotto una campagna elettorale più lunga, che saremmo arrivati al ballottaggio, che nessuno avrebbe superato il 50%, che il mio avversario sarebbe rimasto molto basso e che le sue liste sarebbero state altrettanto basse. È successa esattamente questa cosa e sono contento che le nostre liste abbiano tenuto per consenso, ma soprattutto siano in grado di rappresentare e saranno in grado di rappresentare in consiglio comunale grande qualità e competenza perché è quello che accadrà tra quattro giorni. Queste sono le due bugie raccontate dai miei avversari. Intanto partiamo dallo stadio, siamo felici che si realizzi uno stadio moderno nella nostra città, siamo felici e saremo felici di aiutare chi vorrà investire nella nostra comunità immaginando un tempio del calcio, un piccolo tempio del calcio. Per cui è assolutamente falso dire che siamo contrari, siamo favorevoli e dico una cosa in più, non sarà merito e non è merito dell'amministrazione se si realizza lo stadio, ma è merito degli imprenditori che danno disponibilità a farlo. Per cui favoriremo la realizzazione e il completamento dello stadio e ci auguriamo che la nostra casertana voli sempre più in alto. Sul reddito di cittadinanza anche qui idee molto chiare? Sul reddito di cittadinanza ho sentito dire tante frottole, qualcuno ha detto che avrei abolito il reddito, io non sono Mario Draghi, non sono nelle condizioni di intervenire sul reddito e peraltro sono dell'avviso che il reddito di cittadinanza per chi vive con difficoltà il quotidiano sia un supporto utile. Cosa farà l'amministrazione comunale? Quello che non ha fatto fino ad oggi. Noi metteremo nelle condizioni i percettori del reddito di cittadinanza di dare una mano all'amministrazione comunale in base alle diverse competenze, chi ha competenze elevate potrà supportare sul piano amministrativo, come dice la legge, la macchina comunale, chi ha competenze più pratiche potrà dare una mano alla manutenzione e al decoro della città determinando anche un risparmio al comune di Caserta e soprattutto un coinvolgimento che dà valore e dignità ai percettori del reddito. Per cui la mia posizione è chiara, c'è nel mio programma e sono sicuro che queste siano proposte che danno il valore di un impegno serio e per le persone. Guardate, io non ho ascoltato una proposta da Marino, peraltro qualche giorno fa ha fatto girare un video di insulti nei miei confronti, quindi io non sto spaventando proprio nessuno. La città mi conosce, sono figlio di questa città, sono nato a Caserta, ho 38 anni e vivo la città da normale cittadino, non ho nulla e nessuno da spaventare, forse ad essere spaventato è proprio lui per il risultato che lo aspetterà lunedì. Per cui si faccia coraggio e venga a fare un bel confronto pubblico con me, magari in piazza.